L'obiezione che mi è stata fatta è che i condensatori sono un chute, un cortocircuito. Allora ho fatto un cortocircuito dei condensatori in modo da escluderli ed in a festi e lì vedo il cortocircuito e l'entrano a 50 Hz Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tutto con la lubina, la direttività ai disturbi sparisce. Grazie a tutti.